ragazze buonasera benvenute in questo nuovo video mac bang sto facendo il video col microfonino così magari si sentono di più i rumorini da mac bang insomma me lo chiedete spesso e quindi volevo accontentarvi stamattina come vi ho detto nel vlog precedente ho acquistato la pocket ball e more di questa linea qui aspettate eccola qui l'ho pagata 7,98 euro quindi non è costata pochissimo quindi ho grandi grandi aspettative speriamo insomma la apro insieme a voi e appunto oggi vi ho messo il il post diciamo delle domande su nelle storie di instagram per tenerci un po di compagnia rispondere un po di vostre curiosità così e nel mentre io magno perché ho fame ho creato questa atmosfera un po serale in maniera tale che magari io possa tenervi compagnia molto spesso mi scrivete che vi ho tenuto compagnia mentre cenavate pranzavate o anche mentre facevate colazione anche se magari vi metto voglia di salato all'interno c'è questa bustina qua che dovrebbe essere salsa di soia ma io non ho le forbici mi piacerebbe metterla ma ho l'impressione che non la metterò e invece la metto perché c'era il trattino sono dei geni quindi sto mettendo la salsa di soia adesso in teoria dovrei migliorare la l'inquadratura perché dovrebbe vedersi anche quello che mangio e invece non si vede nulla buona adesso provo a cambiare inquadratura ok vi ho allontanate un pochettino intanto stacco la etichetta perché qui sopra ci ho messo la la carta della salsa di soia prima che faccio pasticci c'è anche del cos'è papaya sembra buonissima ragazze non pensavo ho molta paura la verità però se è buono la riprendo poi perché a me queste cose piacciono quindi mi piace il salmone crudo proprio ci vado pazzissima e del carefour mi fido abbastanza perché anche quando abitavamo a torino prendevamo sempre il sushi da carefour avevamo un carefour grande grande dove abitavo prima che faceva proprio il sushi fresco sul momento lo confezionavano lo portavi via costicchiava però era veramente buono quindi nulla a togliere al ristorante e quindi mi sono fidata e devo dire sembra buono ops è passata una macchina era una baia allora direi di iniziare subito il massaggino di prova super buona la riacquisterò sicuro buonissima partiamo con le domande prima domanda serie tv del momento o film vi piace sky che altre piattaforme avete per guardare film cartoni eccetera allora sky ci piace da impazzire veramente tanto 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 ci piace proprio tantissimo perché all'interno ci sono canali crime poi ne abbiamo messo il pacchetto canali per bambini e poi incluso nell'offerta ci avevano proposto sky sky con incluso sky cinema i canali eccetera e noi abbiamo giunto poi i canali bambini e poi oltre sky cinema ci hanno incluso anche netflix quindi abbiamo e paramount scusate quindi abbiamo paramount netflix sky pacchetto cinema canali eccetera e poi noi abbiamo anche l'abbonamento a prime che si può vedere anche da sky quindi su sky se tu sei abbonato entri clicchi sull'applicazione prime e prime e metti i tuoi dati d'accesso e hai tutto così tutto raggruppato lì quindi questo è quello che abbiamo al momento quindi tutto il pacchetto sky tranne lo sport perché non ci interessa serie tv del momento al momento sto seguendo su paramount dovrebbe essere sono un posto controllare in caso ve la metto qui una una serie su sui medici tipo per intenderci grace anatomy però versione aereo skyline sky medic qualcosa del genere comunque a questo punto l'avrete già visto quella è la serie che al momento sto guardando alessandra ha qualche difficoltà di pronuncia no è molto chiacchierona molto 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 chiacchierona proprio logorroica non pensavo ma l'abbinamento frutto e salmone e riso è qualcosa di paradisiaco veramente buono quindi no in difficoltà di pronuncia no ovviamente a cinque anni quindi quando dice una parolina sbagliata sbagliata o sbaglia un verbo noi la interrompiamo la correggiamo lei lo ripete giusto e va avanti con la frase cerchiamo di aiutarla in questo modo però no difficoltà di pronuncia difficoltà nel parlare lei proprio no non ne ha poiché sono incinta ti chiedo hai avuto qualche problema o preoccupazione durante le gravidanze nel senso che è normale che sia così cioè non credo esista una mamma senza preoccupazioni cioè sarebbe strano il contrario secondo me quindi si scusate metto ora metto il silenzioso perché davvero suona di continuo e si preoccupazioni che non stesse bene che nascesse malato che di stare male io piena di preoccupazioni ma quello è normale cioè non nulla di strano secondo me problemi invece durante la gravidanza io entrambe le gravidanze non ne ho avuti se non un fortissimo dolore più o meno qui come se il pancione diciamo la bambina l'utero non lo so mi schiacciassero qualche nervo con alessandra ho avuto questo problema forse un pochino anche con federico ma meno me lo ricordo meno invece con lei dei dolori lancinanti a questo nervo qualcosa qui che non dimenticherò per il resto e a parte le nausee ma quelle è andato sempre tutto tutto bene ti fa paura il futuro dei tuoi figli per tutto quello che si sente delle nuove generazioni io sì un sacco anch'io più che altro scusate ma ho fame più che altro c'è veramente tanta violenza ultimamente salino uscendo un sacco di violenza proprio delle cose bruttissime e quindi la paura che possa capitare miei figli ovviamente c'è normale però sì 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 ho paura del futuro ho paura anche tutta questa tecnologia mi fa paura perché comunque il troppo stroppia c'è c'è il lato positivo di internet di dei social eccetera però proprio per il loro futuro ho paura che sia tutto troppo tecnologico e che si perda un po' quel valore dei sentimenti del relazionarsi del parlarsi a faccia a faccia di andarsi a prendere un caffè di andare a citofonare all'amico si è proprio perso tutto questo quindi questo un po' mi spiace perché io un po' l'ho vissuto in piccola parte quando ero mi sta crollando tutto fantastico quando ero un po' più piccolina no con i miei genitori ancora l'ho vissuto perché non c'erano i telefonini però questo un po' mi mi dispiace e mi fa paura perché comunque si socializza sempre meno cioè voi me lo confermerete e così si socializza sempre di più sullo schermo ecco quindi la mia risposta è sì sono io nel cassetto allora una carotina diciamo che non si è diciamo che nella vita non si è mai arrivati no a un dunque però vi devo ammettere che in questo periodo della mia vita io sono molto molto soddisfatta del lavoro di cosa ho realizzato con pazienza e dedizione no anche solo l'aprire la partita IVA mettermi in gioco dovevo investire quindi sul computer comunque con Apple e su tutto quello che poi sto facendo e ho fatto quindi sto lavorando no e non solo con YouTube ma proprio ho i miei clienti eccetera eccetera e sono sincera il mio sogno nel cassetto era questo diventare che diventasse quello che ho studiato il mio lavoro e quindi vi devo dire la verità l'ho realizzato poi se vogliamo qualcosa di più frivolo ecco il mio sogno nel cassetto sarebbe andare alle Maldive mi piacerebbe molto con i miei bimbi e il mio amore mi affascina proprio come posto quindi mi piacerebbe visitarlo youtuber preferita una sola sono sincera non riuscirei a sceglierla non saprei chi scegliere perché per me le mie preferite sono tutte un po' sullo stesso piano quindi lo seguo tantissimo Debby G Sabri Miss 73 Woman Chiaretta Alfredo adesso non mi vengono i nomi però loro sono quelle che seguo diciamo giornalmente ecco che appena un attimo vado a vedermele ecco quindi quelle che mi saltano così subito le più importanti che guardo sono loro adesso spero di non aver dimenticato nessuno ma dovrebbero essere loro poi guardo anche altri però quelle che cerco di non perdermi mai un video sono sempre loro ecco il cuore di Violet anche di lei giornalmente cerco di essere sempre al passo insomma poi non riesco a guardarle tutte tutti i giorni perché pubblicano spesso come me però ci provo nel senso loro sono le preferite che rapporto hai con i genitori parenti di Riccardo un rapporto normalissimo mi trovo molto bene con suo papà e adesso mi ricollego anche mi collego anche alla domanda che c'è dopo andrete in Sicilia quest'anno non lo sappiamo ancora però visto che quest'anno facciamo dieci anni insieme ci teneva molto a farmi conoscere anche tutti i parenti di Giù la nonna gli zii e tutto quanto quindi io ho un rapporto molto io sono una persona molto tranquilla quindi tendenzialmente mamma se proprio non mi manchi di rispetto io vado d'accordo con tutti quindi vi dico la verità ho un rapporto normalissimo ti hanno fatto male i piercing soprattutto quello alla lingua meglio mangiare e anche bere sia questo che si chiama Labret che quello alla lingua che evito di farvi vedere mentre mangio che si chiama Tongue mi pare Tongue entrambi dolorosi lì per lì sul momento ok però il problema di quello alla lingua è che quello alla lingua non fa male solo durante lo fai mentre lo fai fa male anche poi dopo allora consiglio per chi volesse farsi mai il piercing alla lingua deve piacerti tantissimo se no non lo fare io lo sognavo da quando ero adolescente mi è sempre piaciuto lo guardavo ad altre ragazze me ne innamoravo quando parlavano quindi l'ho sempre voluto ma deve piacerti tanto deve avere tanta motivazione perché fa tanto male tanto mentre lo fai è un attimo come tutti gli altri piercing il problema è che quando poi passano i giorni la lingua si gonfia scusate infatti ti mettono un piercing molto più lungo tipo così perché la lingua diventa una bistecca una sberla così e quindi consiglio di farlo d'estate perché così potete mangiare frullati freschi ghiaccioli gelati è l'unico modo per sopravvivere secondo me se lo fate d'inverno c'è poca voglia di mangiare cose fredde quindi è un po' più complesso e sì fa male fa molto male pensate che io l'ho fatto ben due volte per chi mi segue da anni lo sa io feci il mio primo piercing alla lingua circa 5 anni 6 anni fa dopo un mese che l'ho fatto neanche forse anche meno una ventina di giorni ho scoperto di essere incinta di Alessandra e quindi con le nause avere la pallina sulla lingua mi portava un sacco di nausea in più quindi l'ho tolto per la disperazione ovviamente si è chiuso subito perché ce l'avevo solo un mese neanche e quindi la disperazione perché comunque a me piaceva molto ma è una rinuncia che ho fatto super volentieri capirei ero ancora più felice che arrivava una figlia però appunto da 2-3 anni 2-3 anni fa l'ho voluto rifare quindi ho sofferto due volte due volte bisteccona due volte dolore eccetera però non me ne pento mi piace mi piace tanto e sono sincera dovesse chiudersi probabilmente lo rifarei anche se penso al dolore mi passa un po' la voglia però mi piace tanto per quello dico deve esserci tanta motivazione ho perso due ore solo per questo incontri te stessa a 18 anni che consiglio ti daresti? sempre il solito consiglio stai da solo no vabbè nel senso è difficile da spiegare diciamo che mi consiglierei di dedicarmi di più a me a lavorare mettervi a soldi o eventualmente studiare pensando al mio futuro poi all'amore ecco penso che questo sarebbe il consiglio più grande no? stare di più con la mia famiglia e dedicarmi di più al mio futuro ecco il tuo primo video qui su youtube mi piacerebbe vederlo non c'è più non c'è più i primi video ho dovuto poi cancellarli perché appunto dovevo togliere dei video con Federico e quindi non ci sono più e poi fidati non ti sei persa nulla ero inquietante ma anche il video in sé era inquietante perché era scarsissimo di qualità molto sgranato perché comunque dieci anni fa non è che c'era tutta questa tecnologia come adesso i video non erano così belli chi tra te Riccardo è più geloso? penso Riccardo siamo abbastanza simili vi dico la verità sono combattuta però sì penso forse un pochino più lui ma finché è gelosia sana va bene poi ciao Roby ciao Roby Ale ha risolto il problema adenoidi avete poi fatto la visita di controllo l'ha visitata la sua pediatra che ci ha detto appunto che è abbastanza stabile come situazione quindi finché non danno problemi stiamo scongiurando che appunto che sia da operare insomma anche perché per carità io l'ho fatto come intervento non è niente di drastico però sinceramente se posso scegliere se evitarglielo glielo evito ecco e quindi per ora è tutto abbastanza fermo abbastanza tranquillo hai mai sofferto di ansia? probabilmente questo commento è stato fatto da una persona che mi segue da poco penso perché ne ho parlato tanto nel mio canale ne ho sofferto d'ansia non un'ansia di quelle devastanti e soprattutto sono contro il prendere qualcosa proprio a livello chimico non che ci sia qualcosa di sbagliato ecco ma ritengo che per quanto mi riguarda non sia ancora necessario ecco capita un po' di ansietta da mamma da piccole preoccupazioni quotidiane ma niente qua vi da fastidio lo vedete? no? ok niente di tragico però sì ne ho sofferto ci sono dei video sul mio canale dove ne ho parlato se ti fa piacere scrivi Robertina ha ansia magari viene fuori credo di non averti mai visto sui tacchi li metti qualche volta o li hai portati? un bacio un bacio anche a te adesso mi spiccio anche perché li portavo da quando ho avuto diciamo le due gravidanze un po' perché quando sei incinta poi ti senti grossa i tacchi non li metti anche per evitare cadute ma poi successivamente arriva il periodo dove devi correre dietro i bimbi perché hanno un anno e mezzo due iniziano i primi passetti eccetera quindi alla fine no alla fine me li sono persi per strada i tacchi cioè proprio non non li ho più messi mi dico la verità al massimo quelle quelle stivaletti con un po' di tacchetto ecco il massimo è stato cioè sapete no quelli vi metto una foto vi metto una foto di tronchetti come si chiama tronchetti ma proprio il tacco tacco tipo a spillo fine no 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 tra te Riccardo chi ha il carattere più tosto sia con i figli che in genere penso in generale sì siamo entrambi cioè lui dell'ariete io sono del toro ragazzi così stiamo parlando cioè siamo entrambi molto molto strong quindi e poi abbiamo un metodo educativo molto molto simile perché siamo comunque stati cresciuti con delle regole il rispetto delle regole tradizioni di più chi meno però comunque siamo veramente molto molto simili sia a livello di testardaggine che a livello diciamo educativo con i bambini quindi ci troviamo abbastanza però forse il più tosto ma forse un pochino più lui ma siamo proprio lì che ce la giochiamo cioè non lo so dipende in che ambito in che cosa eccetera quindi queste sono tutte le domandine io credo di aver risposto tutte ci tengo però a rispondere ancora a due domande più che due domande una precisazione e una domanda allora una di voi quando ho fatto quel quel box domande dove c'è stato un gran casino ragazze perché io ho scritto via le domande scomode però come ho detto anche su Instagram scomode non vuol dire maleducate purtroppo come al solito certi elementi ne approfittano ma una è sempre la solita che fa la buona sammaritana la santarella e poi invece c'è una cattiveria sta donna che veramente è disarmante fa tutto quello che vuole si permette di fare dire disfare e uno non deve dirle niente altrimenti il risultato è che ti viene contro quindi è una certa o l'ho bloccata arrivederci e grazie perché è inutile proprio perdere tempo con certe persone quando vedete maleducazione via io le cose tossiche le sto eliminando dalla mia vita e va bene così però appunto c'erano anche delle domande interessanti una era una ragazza che è insegnante e mi chiese appunto perché io non non abbia già mandato Alessandra all'elementare perché secondo lei è molto sveglia e molto attiva io la ringrazio per questo complimento perché di complimento si tratta però appunto ho ricevuto questo commento ne ho parlato anche con con Riccardo proprio per fargli notare no? la cosa ma il nostro pensiero è non vediamo delle doti proprio troppo fuori dalla sua età sinceramente da mandarla addirittura già all'elementare perché dovrebbe fare ancora un anno di materna preferiamo che sia comunque avvantaggiata volendo se così fosse ma che si ritrovi tutto più semplice nel suo cammino piuttosto che spingerla troppo avanti rischiando che vada male non so se mi sono spiegata quindi questo è un po' il mio ragionamento insomma perché io credo che a meno che si abbia un figlio che è un genio proprio che Alessandra già mi faccia i calcoli non vedo il motivo di spingerla troppo avanti ma preferisco farla andare insieme ai suoi compagni con calma ce n'è ancora un pochino ma è difficile prendere alcune pacchette un'altra domanda che mi era piaciuta era se mi ero pentita di di aver aperto la partita io ero contenta io vi devo dire la verità sono contenta nel senso che sono all'inizio comunque ce l'ho da un paio d'anni però per ora mi sto trovando bene sono soddisfatta dei miei guadagni che comunque dipendono molto da me perché se accettare 10 clienti o 5 comunque dipende dal tempo che ho per le lavorazioni eccetera e poi c'è youtube anche quello qua dichiarato basta è finito non riesco a prenderlo più però veramente buono lo riacquisterò sicuramente se vi interessa se lo trovate se lo trovate in giro lasciami 20 minuti a temperatura ambiente vabbè l'ho fatto la marca yamasushi yamasushi con la y veramente veramente buono non pensavo invece mi ha stupito ed è anche un pranzetto sano quindi top quindi insomma sono soddisfatta della dell'averla aperta perché comunque sono tranquilla per youtube sono tranquilla per il lavoro appunto di di fotografa videomaker principalmente ho notato che mi piace tanto creare reel creare video perché comunque sapete io sono sempre stata così un po' anche nei vlog mi piace emozionare mi piace emozionarmi creando video con i momenti altrui e miei anche e quindi sto trovando la mia soddisfazione per quello vi dico sono sono contenta non mi pento e poi niente che altro stavo pensando appunto se c'erano altre domande che mi erano piaciute poi vabbè non mi pare c'erano due o tre adesso non mi vengono in mente c'è sempre un po' la solita polemica sul discorso amicizia a parte i maleducati a parte le cose che che scavalcano il limite lì ne pieno il mondo e come ho detto anche su instagram fa un po' parte del gioco non lo devo ricordare più spesso bloccare ciao arrivederci non devo togliere a chi mi segue con affetto contenuti piacevoli come possono essere il mac bang o un vlog per colpa di di terzi che sono frustrati hanno le loro problematiche e le scaricano su chi non c'entra nulla quindi assolutamente devo correggere questa cosa e imparerò 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 a farlo perché fa parte di questo mondo la critica ma non era critica ve lo assicuro era qualcosa di troppo proprio troppo e però noto sempre un po' l'ossessione per alcune persone sulle mie amicizie e con questo video ci tengo anche a dirvi che io purtroppo non non farò più vedere le mie amicizie su questo canale perché tanto le amicizie vanno e vengono le amicizie ti prendono le amicizie le amicizie cambiano strada le amicizie ti deludono le amicizie sono così sono come gli amori non è che un amore deve per forza durare per sempre ok e sinceramente credo che questa cosa qua sia una cosa privata mia che debba vivere per conto mio anche perché puntualmente gli sciacalli come vogliamo chiamarli giocano molto su questa cosa ah tu non sei più amica di e quindi vuol dire che tu non sei in grado di tenerti un'amicizia no ragazze perché io ho un'amicizia che dura 12 anni e ne ho avute tante altre che sono durate 9 10 anni e che ho perso purtroppo perché cioè ci si sente raramente ma perché ho cambiato strada perché mi sono allontanato ho cambiato città chi mi segue da sempre lo sa e quindi quando è difficile vedersi non sempre c'è la persona adatta a questo c'è la persona non adatta c'è la persona che ti segue lo stesso perché c'è proprio un bene fraterno come consiglia infatti con lei è un'amicizia di 12 anni non per nulla non fossi in grado di tenermi un'amicizia non avrei amicizie così lunghe non avrei mai avuto amicizie durature però vi dirò anche un'altra cosa che io sono una persona e ci tengo a dirlo una volta per tutte poi non parlerò più di questo argomento perché sono stanca sono veramente stanca di essere giudicata da gente che non mi conosce e non parlo di chi mi segue con affetto come voi ma di chi anche ha messo dei commenti molto cattivi in quel box domande io so stare anche da sola io non ho bisogno per forza di avere amicizie cioè io sono fatta così ragazze cioè potete scegliere se prenderne esempio o se dire oh mamma quella ragazza sa stare anche senza amicizie che schifo va bene potete valutare voi io non ho la necessità di avere per forza delle amiche o degli amici cioè sto bene anche da sola e proprio per questo quando una persona mi delude so anche farmi da parte cioè nel senso non devo capite che non deve essere fatto tutto solo da una parte e dall'altra no deve essere reciproca l'amicizia secondo me e quando dall'altra parte noto delle cose che non trovo giuste che non mi vanno ne parlo uno due tre poi avremo un punto che dico se non ci interessa anche dall'altra parte va bene così cioè nel senso saper stare da soli saper amare se stessi scusate ho toccato il microfono non ho fatto casino saper dire no non significa essere dei deboli non saper avere degli amici perché anche dire sempre sì vuol dire essere degli zerbini non degli amici perché bisogna saper dire sì quando va bene dire sì e no quando non si può non si può ok? quindi adesso non voglio divagare perché siamo già mezz'ora di video però è per dirvi che sono stanca di queste polemiche sul fatto che io sappia tenermi o meno le amicizie non dipende tutto solo da una persona in amicizia si è uno due tre cinque dieci gruppi di amici no? quindi non è che faccio tutto da sola eh giusto per dire ma poi voglio dire le amicizie che prendo e che lascio o che mi lasciano ma saranno fatti miei cioè non è che perché vi faccio vedere un video con un amico o un'amica vuol dire che se non lo vedete per sempre fino alla morte fino al mio momento in cui entro in una tomba sono da condannare a morte le amicizie vanno e vengono ci sono periodi della vita in cui si frequenta di più una persona periodi della vita dove se ne frequenta un'altra e l'altra magari si è accantonata per una serie di eventuali motivi che può essere la vita può essere problema suo problema mio ma questo cosa significa? cioè assolutamente nulla quindi questo è quanto ragazze quindi io non filmerò più le mie amicizie così vi mettete il cuore in pace e non vi andate a preoccupare più di tanto bevo perché il riso e basta questo è tutto io spero di avervi tenuto un po' di compagnia spero vi sia piaciuto fatemi sapere se avevate provato anche voi questa la pokeball pokeball poke buonissima veramente buona 7,80€ quello che è spesi bene perché era veramente buona un pranzetto sano leggero e ci sta ci sta io vi mando un bacione grandissimo vi ringrazio per le domande e ci vediamo al prossimo vlog ciao ciao